Questa seconda unità didattica del modulo dedicato al ragionamento in condizioni di incertezza introduce la teoria delle probabilità. Il ragionamento in condizioni di incertezza vuole cercare di stimare la credibilità delle informazioni. Invece la teoria delle probabilità vuole stimare la probabilità che un certo evento accada. Cosa hanno in comune probabilità e credibilità? Perché noi vogliamo utilizzare la teoria delle probabilità per valutare la credibilità di un'informazione? Qual è la giustificazione di questa vicinanza fra probabilità e credibilità? Beh, probabilmente la vicinanza fra probabilità che un certo evento si verifichi e credibilità che una certa affermazione sia vera la possiamo trovare, la fondatezza di questa grande similitudine, grande vicinanza nell'affermazione di Laplace. Infatti Laplace diceva che le affermazioni probabilistiche compendiano l'ignoranza circa fatti rilevanti, condizioni iniziali del lancio di un dado, l'evoluzione temporale, eccetera, eccetera. Cioè, secondo Laplace, se noi avessimo avuto, avessimo informazione completa circa un evento che sta per accadere, noi potremmo prevedere l'esito dell'evento e a questo punto non parleremo più di probabilità ma di certezza che un certo evento si verifichi. Allo stesso modo, se noi ci chiediamo qual è la credibilità di una certa affermazione, per esempio, un'affermazione che riguarda fatti avvenuti nel passato, l'eroe dei due mondi ha incontrato nel 1860 Vittorio Emanuele II. Beh, quanto è credibile questa affermazione? Per poterlo sapere dovremmo affidarci su testimonianze di persone che erano presenti in quel momento, probabilmente gli iscritti di queste persone perché è passato talmente tanto tempo, eccetera. Se noi ci chiediamo informazione, ci chiediamo la credibilità di un'affermazione che riguarda il futuro, quanto è credibile che la Juventus possa vincere la Champions League l'anno prossimo? Anche qui, probabilmente, se noi avessimo sufficienti informazioni per poter sapere quale sarà la condizione della società, della squadra, dei competitors l'anno prossimo in quella competizione, probabilmente potremmo avere un grado di credibilità dell'affermazione maggiore. Ma anche se noi andiamo a fare una affermazione riguardo a un qualche cosa che sta avvenendo adesso sotto i nostri occhi e quindi nel tempo presente, se noi avessimo la certezza di star percependo bene ciò che sta avvenendo, se noi avessimo la possibilità di poter disporre di tutte le informazioni per interpretare quello che sta accadendo mentre noi stiamo parlando, allora anche qui il grado di credibilità ne sarebbe affetto in senso positivo, cioè aumenterebbe la credibilità dell'affermazione che stiamo facendo riguardo a un evento che si sta svolgendo anche sotto i nostri occhi. E quello che voglio dire è che sia che noi facciamo affermazioni riguardo al passato, sia che noi facciamo affermazioni riguardo al futuro o sia che noi facciamo affermazioni riguardo al tempo presente, la credibilità delle informazioni che noi diamo, delle affermazioni che facciamo, è affetta dal livello di ignoranza che noi abbiamo circa ciò che è avvenuto nel passato, ciò che potrà accadere nel futuro o ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi. È l'ignoranza quello che accomuna la probabilità alla credibilità ed è su questa base che l'intelligenza artificiale ha scelto di adottare i fondamenti logico-matematici della teoria delle probabilità per valutare anche la credibilità delle affermazioni e delle informazioni di cui dispone il sistema di intelligenza artificiale. Anche se la teoria delle probabilità aveva già più di due secoli di storia quando è nata l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale ha fatto un po' di fatica all'inizio ad accettare umilmente di poter attingere la teoria delle probabilità per poter valutare la credibilità delle informazioni, ma ormai penso che pochi ricercatori nutrano dubbi sull'opportunità di questa operazione intellettuale. E dicevo, nonostante due secoli di storia, io credo che uno dei risultati più importanti della teoria delle probabilità sia il teorema di Bayes, che risale al 1700, la pubblicazione al 1763, credo che si possa anche dire che nel 1931, che è stato un anno decisamente importante per la storia del pensiero razionale in Occidente, Kolmogorov, Andrei Kolmogorov, ha raccolto gli assomi fondamentali della teoria delle probabilità che adesso stiamo per vedere. Però la semantica, in qualche maniera, di questo impianto formale non era filosoficamente ben accettata, perché effettivamente la teoria delle probabilità, come cercherò di illustrare, aveva, in qualche cosa, in qualche maniera, un sentimento anche di, quasi di, come se fosse un pochino una materia esoterica, perché quando si parla, per esempio, di legge di grandi numeri, c'è un qualche cosa che disturba il pensiero deterministico di tipo laplassiano. Ma una giustificazione importante degli assomi di Kolmogorov è stata data da vari pensatori, anche filosofi, negli anni successivi. Forse la più importante di tutte risale proprio, è contemporanea a Kolmogorov ed è stata, è dovuta a Bruno De Finetti. Quando lui dirà, scriverà, che un agente, per giustificare gli assomi di Kolmogorov, che un agente che scommetta, secondo probabilità, che violano questi assomi, sarà indotto poi ad agire in maniera irrazionale, perdendo denaro indipendentemente dall'essibile scommessa. Questo è stato un concetto molto importante e che ha contribuito a giustificare in maniera definitiva gli assomi delle teorie delle probabilità. E cioè, lui mostrò, come adesso cercherò di fare anche io, seguendo l'impianto della sua dimostrazione, che se si scommette in qualunque contesto una scommessa casuale, una scommessa abbassata anche su un concorso pronostice, ad esempio, violando gli assomi di Kolmogorov, allora si perdono soldi non sulle lunghe distanze, cioè non nell'arco di una vita, ma si perde soldi sulla singola giocata, indipendentemente da quello che sarà l'esito dell'evento su cui si è scommesso. Allora, partiamo dai concetti fondamentali, quelli che probabilmente abbiamo già incontrato probabilmente nel corso della nostra formazione e forse anche nella scuola, credo. E cioè, se parliamo degli eventi, gli eventi sono accadimenti dei quali non possiamo sapere, appunto per ignoranza, quale potrà essere l'esito. Ad esempio, lancio di un dado, elemento un po' paradigmatico di tutta la teoria delle probabilità, il lancio di un dado può dare risultato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciascuno di questi risultati lo chiamiamo evento atomico e l'insieme di questi risultati è spazio degli eventi atomici. Un evento è un insieme di questi eventi atomici. Per esempio, l'evento risultato dispari e a ciascun evento la teoria delle probabilità associa una misura, eccola qua, quella che poi diventerà per noi una misura di credibilità. Quindi partiamo dalla misura di probabilità. diremo che, supponiamo che il dado sia un dado idealmente perfetto, che non possiamo avere delle conoscenze a priori sulle condizioni iniziali in cui potrà essere lanciato il dado, eccetera, eccetera, diremo che la probabilità che il risultato del lancio di un dado sia uno qualunque dei sei numeri sarà un sesto. e possiamo dire, a questo punto, queste sono le basi delle probabilità come sono state raccolte da Comogorgo, che la probabilità di un evento sarà data dalla somma delle misure di probabilità di ogni singolo evento discreto. E i risultati sostanzialmente sono questi qui. La probabilità di un qualsiasi risultato è 1. Cioè non è possibile che il dado rimanga su uno spigolo o su... deve concludere la sua corsa su una faccia e quindi mostrerà la faccia opposta come risultato dell'evento. La probabilità dell'evento nullo è 0, perché comunque il dado sarà lanciato e qualche cosa darà. La probabilità che dia un risultato opposto su quello su cui si scommette, per esempio la probabilità che dia un risultato pari, avendo scommesso sul fatto che dia un risultato dispari, sarà 1 meno la probabilità che dia... quindi la probabilità della negazione di un evento è 1 meno la probabilità di quell'evento. E poi quello un pochetto più discusso e un pochetto più anche forse denso di significati, la probabilità che avvengano due eventi o l'uno o l'altro intendo dire, scusatemi, la probabilità che avvenga un evento o un altro evento sarà data dalla probabilità che avvenga il primo evento sommato la probabilità che avvenga il secondo evento meno la probabilità che avvengano entrambi, per esempio. La possibilità che il lancio di un dado dia risultato pari oppure un risultato minore di 4 è data dalla probabilità che dia un risultato pari più la probabilità che dia un risultato minore di 4 meno la probabilità che dia un risultato che è a contempo pari e minore di 4. Quindi sarà la probabilità che dia un risultato pari e cioè un terzo, o un mezzo, più la probabilità che dia un risultato dispari minore di 4, ovvero un altro mezzo, meno la probabilità che dia un risultato che è pari e minore di 4 e cioè l'unico risultato che è pari, minore di 4 e 2 è un sesto quindi un mezzo più un mezzo meno un sesto fa cinque sesti quindi cinque sesti sarà la probabilità che dia il lancio di un dato risultato pari oppure risultato minore di 4 questi sono concetti molto semplici e abbastanza intuitivi questo assioma di Kolmogorov ha anche in sé la definizione più che giustificazione del concetto di evento disgiunto eventi disgiunti quando due più eventi sono disgiunti supponiamo due sono disgiunti due eventi A e B quando la probabilità che avvenga o l'uno o l'altro è data dalla somma della probabilità che avvenga l'uno più la somma della probabilità che avvenga l'altro e cioè è una situazione in cui non esiste la probabilità che avvengano entrambi è zero cioè non esiste un evento che è un evento atomico che sia comune ai due eventi quindi per esempio probabilità un evento disgiunto è una coppia di eventi disgiunti che è risultato maggiore di 5 e risultato minore di 4 ovviamente non ci può essere un risultato in lancio di un dato che sia al contempo maggiore di 5 e minore di 4 per cui se ci chiediamo qual è la probabilità di un risultato maggiore di 5 l'unico è 6 sarà un sesto più minore di 4 e cioè 1 o 2 o 3 e abbiamo che sommando queste probabilità abbiamo due terzi ma la cosa importante è che questa somma è derivata dalla somma della probabilità che dia un risultato maggiore di 5 e che dia un risultato minore di 4 perché non c'è non c'è nessun evento atomico che soddisfa entrambi gli eventi maggiore di 5 e minore di 4 sono eventi quindi disgiunti allora veniamo a giustificare secondo l'impianto concettuale inizialmente definito da Bruno De Finetti gli assiomi di Kolmogorov ora in particolare il più contestato il più discusso assioma è stato l'ultimo quello che definisce la probabilità della disgiunzione di due eventi A e B probabilità dell'uno più probabilità dell'altro meno la probabilità della congiunzione dei due cioè presentato con i dadi sembra un concetto abbastanza semplice da capire e tutto sommato autogiustificante ma se andiamo a ragionare sulle scommesse dei cavalli o sulle scommesse delle vittorie di un campionato ad esempio in un campionato ad esempio di calcio come si può giustificare il fatto che io per esempio dica qual è la probabilità che la Juventus vinca il campionato e per esempio il Milan sia secondo dire che questa probabilità è la probabilità che la Juventus vinca il campionato o che il Milan diventi secondo sia la probabilità che la Juventus vinca il campionato più la probabilità che il Milan arrivi secondo meno la probabilità che la Juventus vinca il campionato e il Milan arrivi secondo e se usciamo dal campo del lancio dei dadi si fa un pochetto fatica a capire la giustificazione di questo assioma e appunto adesso ci proviamo a farlo seguendo gli impianti definiti supponiamo ad esempio che noi ci chiediamo che due giocatori scommettano sull'evento che il lancio di un dado possa dare risultato pari o risultato minore di 4 come abbiamo già visto questa probabilità è 5 sesti supponiamo che giochi ad esempio il giocatore blu prima e hanno entrambi i giocatori 12 euro da scommettere dunque se blu ha una credenza vedete che parliamo già di credenza è legata a un concetto di probabilità e quindi già ci stiamo avvicinando se blu ha una credenza circa la probabilità dell'evento risultato pari o risultato minore di 4 l'evento disgiunto di 5 sesti che sarebbe la credenza della probabilità corretta allora lui correttamente cosa farà? una di queste due cose potrà fare o scommetterà 5 sesti dei suoi 12 euro cioè 10 euro su questo evento e questa è una scommessa coerente con la credibilità che lui ha circa la probabilità dell'evento oppure un'altra scommessa coerente con questa credibilità è quella di scommettere 2 euro cioè un sesto il complemento di 5 sesti sull'evento contrario perché entrambe queste scommesse sono coerenti con gli assiomi di Colmogoro perché scommettere sulla negazione di evento vuol dire avere una credibilità sulla negazione di evento che è complementare a 1 della credibilità che l'evento stesso si verifichi è coerente con gli assiomi di Colmogoro quindi blu ha o la possibilità di scommettere 10 euro sul fatto che il lancio del dado soddisfi quell'evento che vi diamo in alto o potrà scommettere 2 euro sul fatto che il lancio del dado non soddisfi quell'evento e quindi farà una di queste due rosso che cosa può fare? rosso può decidere e questa è la scelta razionale che può fare il controscommettitore chiamiamolo così è quello di fare esattamente la scommessa opposta a quella che fa ble e quindi rosso che potrebbe essere ignorante circa le probabilità dei dati potrebbe comunque adottare una strategia perfettamente razionale è quello di fare la scommessa opposta a quella di blu e cioè se blu scommette 10 euro sul fatto che l'evento si verifichi rosso ne scommetterà 2 sul fatto che quello non si verifichi specularmente se blu scommettesse 2 euro sul fatto che quell'evento non si verifichi rosso scommetterà 10 euro sul fatto che quell'evento si verifichi allora con questa situazione si lancia il dado e a questo punto uno dei due vince e l'altro perde indubbiamente perché l'evento comunque è aleatorio però questo è è un concetto affidato alla dimostrazione sperimentale se il dado non è alterato non è truccato e i due giocatori ripetessero di nuovo la scommessa e poi la ripetessero e poi la ripetessero e poi la ripetessero all'infinito più scommesse faranno e più le probabilità che vinca l'uno o vinca l'altro tenderanno a diventare 50% e quindi alla fine di una vita in pratica nessuno dei due giocatori avrà vinto o perso da questa scommessa perché entrambi i giocatori avranno scommesso in maniera perfettamente razionale però qui siamo un po' sulla legge dei grandi numeri e quindi dà un pochino così di ha un pochetto il senso della magia questo apre all'esoterismo qui la teoria della probabilità però il concetto di strategia razionale coerente da parte del giocatore che scommette per primo con la probabilità di un evento dall'altro coerente con la razionalità porterà questo risultato però se andiamo a considerare il caso in cui il giocatore blu abbia una credenza cerca la probabilità di un evento che non è perfettamente aderente alla probabilità dell'evento stesso supponiamo che ad esempio blu abbia creda che quell'evento abbia 4 sesti di probabilità che accada o 3 sesti o 2 sesti o 1 sesto o 6 sesti cioè una qualunque probabilità errata anzi supponiamo che scommetta totalmente a caso e quindi esasperiamo questo concetto non ha alcuna credenza circa la probabilità dell'evento e quindi è come se ci fosse uno scommettitore alle corsi cavalli che non sa minimamente niente riguardo ai cavalli e quindi non può sapere quant'è la probabilità che vinca Varen o vinca un altro o scommettiamo uno che giochi al totocalcio prendendo una schedina precompilata a caso quindi non abbia alcuna idea della forza relativa delle squadre che sono in quella giornata di calendario che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che il giocatore rosso adotte invece la strategia razionale di prima e cioè quella di controscommettere rispetto al blu esattamente come abbiamo definito prima quindi supponiamo che blu scommette non so supponiamo 6 euro sul fatto che si verifichi quel risultato il rosso scommetterà il complemento a 6 di 12 6 euro sul fatto che quel risultato non avverrà bene con questo impianto concettuale qui si può sperimentalmente vedere che all'aumentare del numero delle scommesse che i giocatori faranno blu evento blu potrebbe vincere e perdere è quello che accade spesso ai giocatori nei concorsi pronostici quando magari sulla singola giocata vincono ma poi sul resto delle giocate che fanno nell'arco di una vita perderanno tenderanno a perdere più di quanto hanno perso hanno vinto in quella singola vincita che fecero quella volta più o meno il concetto è questo che ho illustrato adesso io ma ancora qui abbiamo che la strategia razionale del rosso si dimostra tale sui grandi numeri sulle ripetute giocate tutto sommato qui stiamo ancora nelle nelle condizioni della verifica sui della verità degli assomi di colmogorgo sui grandi numeri ma ecco De Finetti De Finetti dice va bene adesso però supponiamo che i due giocatori scommettano non già su un singolo evento non già sulla singola anche il singolo evento disgiunto ma supponiamo che scommettano in maniera da violare proprio le regole degli assomi di colmogorov e quindi facciano delle scommesse non non su un singolo evento ma su un insieme di eventi legati fra di loro su un insieme di valutazione logiche sul singolo evento che violano la sioma di colmogoro per esempio supponiamo che i due giocatori decidano di scommettere su 4 eventi il fatto che il lancio del dato dia risultato pari oppure un risultato minore di 4 e si giochino 12 euro su questo supponiamo che si giochino anche 12 euro sul fatto che il risultato del lancio del dato dia pari anche poi altri 12 euro sul fatto che il risultato del lancio del dato sia minore di 4 e poi anche altri 12 euro sul fatto che il lancio del dato dia risultato pari e risultato minore di 4 cioè in pratica i due giocatori si giocano 12 per 4 48 euro su 4 scommesse una scommessa che dia risultato pari o risultato minore di 4 una scommessa che dia risultato pari una scommessa che dia risultato minore di 4 o una scommessa che dia risultato pari e minore di 4 quindi si giocheranno 48 euro su 4 scommessi 12 euro per ciascuna allora supponiamo che il ble creda 5 sesti sul primo evento, 3 sesti risultato pari, secondo evento 3 sesti, risultato meno di 4 terzo evento un sesto su risultato pari e nel risultato meno di 4 il quarto ed ultimo evento la quarta ed ultima scommessa queste credenze che supponiamo blu abbia sono effettivamente derivate dalla probabilità sono effettivamente corrispondenti, corrette rispetto alla teoria delle probabilità e quindi a questo punto supponendo che il ble scommetta coerentemente con queste credenze 5 sesti sulla prima scommessa probabilità, allora potrà giocare o 10 euro sul fatto che si verifichi questo risultato, o 2 euro sul fatto che non si verifichi supponiamo che cerca la prima di scommettere 10 euro sul fatto che si verifichi sulla seconda potrà scommettere 6 euro sul fatto che il risultato sia pari oppure 6 euro sul fatto che sia dispari e quindi supponiamo che decida di scommettere 6 euro sul fatto che sia dispari terza scommessa il risultato è minore di 4, potrebbe scommettere 6 euro sul fatto che il risultato sia minore di 4 oppure 6 euro sul fatto che il risultato è maggiore di 4, è maggiore o uguale a 4 e supponiamo che faccia questa seconda scommessa, quindi fondo ble vuol dire che scommette sulla negazione dell'evento da ultimo, quarta scommessa, un sesto di probabilità che sia pari e minore di 4 supponiamo che il ble abbia la credenza giusta e lui scommetterà 2 euro sul fatto che si verifichi effettivamente anche il quarto evento e a questo punto con queste 4 scommesse del ble il rosso scommette sempre con la solita strategia ha scommesso 10 euro sul fatto che il primo evento si verifica e io ne scommetto 2 sul fatto che non si verifica ha scommesso 6 euro sul fatto che il secondo evento non si verifica e io ne scommetto 6 sul fatto che si verifica ha scommesso 6 euro sul fatto che il risultato minore di 4 non si verifica e io ne scommetto 6 sul fatto che si verifica ha scommesso 2 euro sul fatto che il risultato sarà pari e minore di 4 e io ne scommetto 10 sul fatto che il risultato non sarà vero che saranno veri entrambi, pari e minore di 4 con questa situazione andiamo a lanciare il dado e vediamo cosa succede se il dado da 1 se il dado da 1 il ble vince 2 sul primo evento vince 6 sul secondo evento perde 6 sul terzo evento perde 2 sul quarto evento se il risultato da 2 di nuovo vince 2 sul primo perde 6 sul secondo perde 6 sul terzo vince 10 sul quarto se da 3 vince 2 sul primo vince 6 sul secondo perde 6 sul terzo perde 2 sul quarto se da risultato 4 vince 2 sul primo perde 6 sul secondo vince 6 sul terzo perde 2 sul quarto se da risultato 10 perde 5 perde 10 sul primo vince 6 sul secondo vince 6 sul terzo perde 2 sul quarto e da ultimo se il risultato è 6 vince 2 sul primo perde 6 sul secondo vince 6 sul terzo perde 2 sul quarto cioè se andiamo a fare le somme degli euro vinti e persi sulle 4 scommesse indipendentemente dall'esito dell'evento i due giocatori saranno perfettamente in parità qui non c'entra più la legge di grandi numeri c'entra solo il singolo evento e vediamo che indipendentemente dall'esito dell'esito del singolo evento non ci saranno né vinti né vincitori in questa scommessa si potrebbe pensare che questo esito sia dovuto al fatto che le credenze di ble erano corrette e la strategia di rosso fosse perfetta e questa supposizione sembra avvalorata da un altro esempio che possiamo fare questo qui supponiamo che le credenze di blu siano quasi perfette cioè effettivamente lui ritenga vero a 5 sesti primo risultato 3 sesti la seconda scommessa 3 sesti la terza tutto come prima ed ecco l'errore invece che considerare un sesto la proprietà del risultato pari e il risultato meno di 4 supponiamo che lui ritenga 2 sesti questa probabilità e quindi coerentemente come fatto prima giocherà 10 euro sulla prima scommessa 6 euro contro la seconda scommessa 6 euro contro la terza scommessa ecco qui l'errore supponiamo che scommetta 4 euro sulla quarta scommessa coerentemente il rosso si giocherà il complemento di 10 rispetto a 12 cioè 2 euro contro la prima scommessa 6 euro a favore della seconda scommessa 6 euro a favore della terza scommessa e ecco la diversità 8 euro sulla quarta scommessa se andiamo contro la quarta scommessa se andiamo a fare le analisi che abbiamo fatto prima cioè lancio risultato 1 risultato 2 3 4 5 6 per quanto riguarda il dado vediamo che in ogni caso andiamo a fare i conti ve li risparmio in ogni caso il giocatore rosso vincerà sempre 2 euro cioè il giocatore blé perde come diceva De Finetti indipendentemente indipendentemente dall'esito del singolo evento lui perderà comunque ogni volta che scommette sul gioco sulla corsa su una qualunque corsa di cavalli ogni volta che scommette su per esempio una singola giornata di un di un campionato di calcio allora questo come mai accade si potrebbe essere indotti a pensare che il giocatore rosso vinca perché il giocatore rosso è perfettamente razionale nelle sue controscommesse il giocatore blé invece fallisce perché ha una credenza che non corrisponde perfettamente al livello di probabilità su cui sta scommettendo e questa questa sensazione è forte e cioè il blu perde perché valuta mano valuta male la probabilità della quarta scommessa e quindi sia per questo che perde e questa convinzione effettivamente potrebbe anche sembrare potrebbe sembrare giustificata anche da tanti altri esempi che potremmo fare qui ad esempio in questo esempio che sto facendo suppongo che mi serve per dare generalità alla conclusione a cui sto per arrivare faccio un altro esempio in cui sulla quarta scommessa i giocatori decidono di non scommettere e decidono di non scommettere perché supponiamo che il blu ha credenza zero sulla quarta scommessa e quindi non commette nulla sulla quarta scommessa adesso per farmi riportare i conti per non fare i decimali ho supposto che scommettano solo 10 euro perdonatemi ma mi serve per evitare i decimali in questo esempio supponiamo quindi che il blu creda 08 nella prima scommessa 0.4 come probabilità sulla seconda scommessa 0.3 come probabilità sulla terza scommessa 0 sulla quarta scommessa e supponiamo quindi a questo punto che lui coerentemente con questa credenza giochi 8 euro dei 10 che ha sulla sulla prima 6 euro dei 10 che ha contro la seconda 7 euro 10 che ha contro la terza e il rosso li si attacca addosso come con la solita cimice di razionalità e che se lui gioca 8 a favore io gioco 2 contro se gioca 6 contro io gioco 4 a favore se gioca 7 contro io gioco 3 a favore di nuovo vediamo che il rosso vince indipendentemente indipendentemente dall'esito del lancio del dato e quindi anche qui potremmo essere indotti a ritenere che questa strategia si dimostra vincente per il rosso semplicemente perché le scommesse che il blefa sono basate su una credenza errata circa le probabilità degli eventi su cui scommette e fino a qui questa credenza che noi abbiamo sulla giustificazione del perché il blu perda sistematicamente sembra essere fondata ma eccoci a Definiti Definiti dice sostanzialmente ok supponiamo che il blu veramente non sappia minimamente fare il calcolo di probabilità supponiamo che il blu vada a scommettere alle corse dei cavalli e faccia 4 scommesse senza niente sapere neanche cosa sia un cavallo oppure che giochi al totocalcio senza neanche sapere che cos'è il gioco del calcio però e quindi essendo ignorante totalmente in materia scommetta per esempio creda 2 sesti probabile il primo il primo evento e quindi scommetta 4 dei suoi 12 euro a favore supponiamo che ritenga probabile il secondo evento 4 sesti ovviamente del tutto sbagliato e quindi coerentemente con questa credenza però decida di scommettere 4 euro cioè 2 per 2 contro un sesto il terzo evento ritenga probabile totalmente sbagliato e quindi coerentemente faccia una scommessa coerente 10 euro contro e da ultimo supponga 3 sesti credibile il quarto evento e coerentemente con questa credenza pure questa sbagliata quindi sono tutte e 4 sbagliate le credenze lui scommetta 6 euro a favore allora uno potrebbe pensare che sbagliata la prima sbagliata la credenza la seconda sbagliata la credenza terza sbagliata la credenza quarta questo perderà chissà quanto i soldi invece se il rosso va a scommettere sempre con la solita strategia vincente non ne so commentare tanto si capisce da solo ormai che cosa andiamo a vedere andiamo a vedere che indipendentemente dal risultato del lancio del dado i due giocatori saranno in perfetta parità ecco questa è stata la dimostrazione dei definetti cioè definetti ha detto sostanzialmente questo che quello che conta realmente non è tanto la stima corretta delle probabilità su cui si va a giocare a scommettere quello che conta è che la scommessa che si fa non violi gli assiomi della teoria delle probabilità perché in questa credenza totalmente sbagliata che il blu ha circa la materia su cui sta scommettendo sono tutte e quattro le credenze sbagliate però se andiamo a mettere dentro la somma di Kolmogorov due sesti due sesti è uguale a quattro sesti più un sesto che sono cinque sesti meno tre sesti cinque meno tre fa due sesti quindi questa questa credenza totalmente sbagliata ma rispetta la somma di Kolmogorov e per questo consente al blu di non perdere non vincere non vince non vince perché come vedete qua il blu non ha vinto mai mai ma perché semplicemente gli si è attaccata contro questa cimice razionale del del rosso che gli controscommette con quella strategia razionale il blu può vincere solamente su una singola scommessa di queste quattro e in maniera occasionale può vincere contro uno giocatore come il rosso ma ecco comunque il concetto di Finetti è questo qui l'ultima somma di Kolmogorov il quarto è giustificato da questa dimostrazione qui e credo che questo sia stato sufficiente per tutti non i detrattori diciamo così le persone che sospettavano sulla fondatezza filosofica degli assomi delle teorie delle probabilità va bene allora Kolmogorov ha anche definito il concetto di variabile aleatoria le variabili aleatorie che corrispondono a risultati appunto variabili che possono assumere un valore di cui non si può conoscere in maniera aprioristica il valore che queste variabili assumeranno le variabili aleatorie possono essere booleane cioè variabili che possono assumere solo due valori vero falso discrete variabili che possono assumere quindi un'enumerazione di possibili valori oppure continue variabili che possono assumere un valore qualunque all'interno di un range che spazia nel dominio del continuo Kolmogorov ha dato una trattazione logico-matematica di tutte e tre queste tipo di variabili però noi che siamo informatici adesso senza perdere di generalità ci limitiamo a considerare adesso il caso di variabili booleane perché noi siamo in grado di binarizzare in qualche maniera anche variabili che booleane non sono una variabile discreta che possa assumere un set di valori noi la possiamo rendere binaria semplicemente modificandola facendo diventare per esempio condizione atmosferica sole vero o falso condizione atmosferica pioggia vero o falso condizione atmosferica vento vero o falso condizione atmosferica neve vero o falso e se poi la variabile spaziasse nella dimensione continua noi potremmo dire per esempio tensione 12 volte vero o falso tensione 13 volte vero o falso lascio all'intuizione vostra capire quello che sto dicendo ma invece questa è importante adesso vediamo che la teoria di probabilità sposa la logica la logica per esempio la logica proposizionale ci limitiamo qui giusto per far vedere che adesso noi stiamo per sostituire al concetto di evento atomico il concetto di interpretazione di un linguaggio cioè facciamo corrispondere alla nozione di evento la nozione di proposizione e poi la singola interpretazione del linguaggio proposizionale diventa l'evento atomico e c'è una corrispondenza perfetta fra queste nozioni basilari della teoria di probabilità e della teoria della logica quindi data una qualche proposizione x la variabile della teoria corrispondente sarà gli eventi scusate corrispondenti a una qualche proposizione sono le interpretazioni che rendono vera quella proposizione e con questo concetto noi possiamo andare alla teoria delle probabilità e dire supponiamo di avere tre variabili lettere proposizionali i per il paziente all'influenza b per il paziente ai brividi g per il paziente ai mal di gola queste variabili aleatorie possono essere vere o false può avere l'influenza o non averla può avere i brividi o non averla può avere il mal di gola o non averla contro lettere proposizionali il linguaggio come sappiamo bene prevede otto possibili mondi cioè otto possibili interpretazioni dal mondo in cui sono vere tutte e tre le variabili proposizionali al mondo in cui sono false tutte e tre le variabili proposizionali otto mondi possibili otto eventi atomici l'evento il mondo è i1 l'evento il mondo è i2 l'evento il mondo è i3 e così via supponiamo ancora adesso e questa è una delle ipotesi più gravi dal punto di vista dell'utilizzo concreto della teoria di probabilità e quindi anche del calcolo supponiamo di avere già a disposizione come condizione iniziale una distribuzione di probabilità su questi eventi atomici su queste interpretazioni su questi mondi possibili e per essere una distribuzione di probabilità bisogna che per ciasco mondo questo numero che rappresenta la proprietà assegnata a quell'evento sia fra 0 e 1 positiva fra 0 e 1 e che poi la somma di tutti quanti su tutto lo spazio degli eventi atomici c'è di A1 supponiamo di averla se supponiamo di averla possiamo andare a fare il calcolo della cosiddetta probabilità marginale noi possiamo andare a definire la probabilità marginale che il paziente abbia l'influenza quale sarà e secondo la teoria delle probabilità sarà la sommatoria delle probabilità dei mondi in cui quell'evento vedete che sto spaziando da una terminologia all'altra che quell'evento avere l'influenza è vero quindi sarà la somma della probabilità dell'interprezione 1 più l'interprezione 2 più l'interprezione 3 più l'interprezione 4 qual è la probabilità che un paziente abbia l'influenza l'1% ora quale sarà la probabilità che il paziente non abbia l'influenza e sarà secondo appunto gli assomi di Kolmogorov è intuitivo anche dall'esempio sarà 1 meno la probabilità che abbia l'influenza perché infatti la probabilità che non abbia l'influenza sarà la sommatoria delle probabilità dei mondi in cui i è falso cioè 5 6 7 ed 8 che sono il complemento degli altri di tutti dei primi 4 rispetto a tutti gli 8 mondi possibili e quindi sarà 1 meno la probabilità di e quindi avremo praticamente quasi il 99% di probabilità che il paziente non abbia l'influenza e questo è il concetto di probabilità marginale possiamo anche andare oltre per esempio qual è la probabilità di E and B abbia l'influenza e abbia i brividi e sarà la probabilità dei mondi che rendono vere entrambe queste proposizioni quindi quali sono i mondi che rendono vere entrambe queste proposizioni l'1 e il 3 e quindi se andiamo a fare la sommatoria della probabilità del mondo 1 più il mondo 3 abbiamo che la probabilità che un paziente abbia i brividi è data è ancora minore e abbia l'influenza è ancora minore della probabilità che abbia solo l'influenza è anche minore della probabilità che abbia solo i brividi perché più sono le lettere posizionali che mettiamo nella congiunzione più sarà ristretto l'insieme dei mondi che verifichino quella congiunzione che potrebbe addirittura votarsi nel caso in cui la congiunzione fosse una contraddizione e a questo punto la probabilità andrebbe a 0 e quindi più affermazioni ne facciamo e meno sarà probabile l'affermazione complessiva che andiamo a fare se facciamo l'indie di tutte le cose che diciamo se invece mettiamo in or abbiamo che i or b sarà la probabilità che sia vero i e quindi tutti i primi 4 mondi più la probabilità che sia vero b che sarà eventualmente uno dei 4 ma in quel caso l'abbiamo già preso e quindi non lo riprendiamo secondo il quarto assieme di Colmogorov più la probabilità appunto che sia vero solo b ma non i e quindi siamo nel caso di 5 e nel caso di 7 e quindi se facciamo l'or la probabilità aumenta invece con l'end la probabilità diminuisce fino a qui parliamo di probabilità marginali ma non sono quelle le affermazioni che ci interessano di più potremmo ovviamente anche andare avanti possiamo calcolare la probabilità di una qualunque proposizione della logica proposizionale fatta con quelle tre lettere proposizionali fino a qui tutto sommato è solo un piccolo divertimento ma non cogliamo molto l'utilità della teoria di probabilità perché in realtà nella nella nostra vita le domande che ci poniamo non sono quant'è la probabilità che quel paziente abbia i brividi e abbia l'influenza in realtà la domanda che noi ci facciamo nella vita è qual è la probabilità che quel paziente abbia l'influenza sapendo che ha i brividi cioè constatando che sta presenta i brividi ci chiediamo qual è la probabilità che sia abbia contratto l'influenza stagionale e questa domanda ripeto non è la probabilità che abbia l'influenza e abbia i brividi perché in realtà se io dico sapendo che ho i brividi a questo punto il fatto che ho i brividi non è argomento di cui discutere è certo che hai brividi si suppone che è certo che abbia i brividi il fatto che sia certo che abbia i brividi porta ad escludere tutti i mondi in cui i brividi non ci sono e quindi discutiamo i 2 i 4 i 6 e i 8 perché sono i mondi in cui B è falso a questo punto rimangono solo 4 mondi i 1 i 3 i 4 e i 7 i mondi dispari e se andiamo a sommare ovviamente la probabilità di questi mondi non abbiamo più 1 e quindi quella che rimane non è più una distribuzione di probabilità sui mondi residuali e quindi non possiamo più andare a calcolare semplicemente una probabilità nel solito modo perché quella che abbiamo non è una distribuzione di probabilità perché non somma ad 1 allora cosa dobbiamo fare per farla tornare a sommare ad 1 beh intanto constatiamo che la somma che abbiamo è la probabilità di B perché in pratica abbiamo solamente i mondi in cui B è vero e quindi se andiamo a sommare questi mondi abbiamo esattamente la probabilità di B che cosa invece abbiamo escluso abbiamo escluso i mondi in cui B era falso e quindi abbiamo escluso i mondi che se fossimo andati a sommare la probabilità di quei mondi avremmo avuto la probabilità che B era falso ma la probabilità che B è falso è 1 meno la probabilità che B è vero ora se noi quindi a questo punto andiamo a normalizzare la distribuzione di probabilità questo è quello che ho appena detto se noi andiamo a normalizzare la teoria delle probabilità rispetto al alla probabilità che B sia vero e cioè andiamo a dividere per 1 meno P di not B ovvero andiamo a dividere per P di B le probabilità dei mondi residuali dei mondi dispari a questo punto avremo delle probabilità che risommano di nuovo ad 1 e quindi quello che stiamo vedendo adesso è il cosiddetto concetto di probabilità condizionale cioè sapendo che B è vero qual è la probabilità che il paziente abbia l'influenza allora B è vero e quindi questi sono i mondi residuali rispetto alla distribuzione di probabilità originali dividiamo per la probabilità di B perché stiamo supponendo che B sia vero e se andiamo a calcolare la probabilità a questo punto che anche I sia vero ci dobbiamo limitare ai mondi I1 e I3 quindi vedete qui sotto la probabilità che I sia vero sapendo che quella barra verticale si legge così sapendo che oppure condizionata al fatto che B è vero la probabilità che I sia vero sapendo che B è vero è data dalla probabilità di I1 sapendo che B è vero più la probabilità di I3 sapendo che B è vero cioè è circa il 90-91% cioè se io so che il paziente ha i brividi a questo punto posso dedurre e qui introduciamo il concetto di deduzione probabilistica che sarebbe un'estensione della deduzione che abbiamo visto in questo corso che al 91% il paziente ha i brividi probabilità condizionate invece la probabilità che abbia l'influenza indipendentemente dal fatto che ha i brividi era un ricordo solamente l'1% l'osservazione che il paziente ha i brividi fa saltare dall'1% al 90% 91% la probabilità che il paziente abbia l'influenza questo è il concetto di probabilità condizionale e quindi questo concetto che abbiamo appena visto si può generalizzare e cioè la probabilità che i sia vero sapendo che b è vero è la probabilità che i and b è vero cioè i1 e i3 quindi la probabilità dei mondi i1 e i3 diviso la probabilità che b sia vero questo concetto si generalizza questo qui che è il concetto di probabilità condizionale se io mi chiedo qual è la probabilità che a sia vero sapendo che b è vero bene questo valore di probabilità sarà la probabilità che siano veri entrambi diviso la probabilità che sia vero secondo cioè quello che io do per certo la probabilità che a sia vero sapendo che b è vero è la probabilità che siano veri sia a e b diviso la probabilità che sia vero b questo risultato si può generalizzare alla cosiddetta regola della catena perché se io mi chiedo a questo punto qual è la probabilità non di a e b ma la probabilità di a e b e c e d e così via questa probabilità sarà data dalla probabilità che sia vero per esempio l'ultimo di questi congiunti condizionata al fatto che siano veri gli altri per la probabilità che siano veri gli altri ma la probabilità che siano veri gli altri sarà la probabilità che sia vero l'ultimo di questi altri per la probabilità che siano veri gli altri degli altri e la probabilità che siano vero l'ultimo di questi altri condizionata al fatto che siano veri gli altri degli altri per la probabilità che siano veri gli altri degli altri e così via, se seguite il ragionamento si arriva a quella formula produttoria che vedete qui malamente evidenziata in questa slide. In particolare, per esempio, ci mettiamo in un contesto a 3, la probabilità che siano vere C and B and A è data dalla probabilità che sia vera A, sapendo che sono veri C e B, per la probabilità che siano vere C e B, ovvero la probabilità che sia vera A, sapendo che è vero B e C, è data dalla probabilità che siano vere A, B e C diviso la probabilità che siano vere B e C. Sono generalizzazioni del concetto di probabilità condizionale che abbiamo visto. Ora, concludiamo con un esempio dell'importanza della probabilità condizionale che è totalmente inventato nei numeri, però è più o meno aderente a delle cose che stanno accadendo negli anni in cui stiamo parlando, trattando questa, facendo queste lezioni. E cioè, supponiamo di avere un caso un pochino ispirato dagli eventi presenti, parliamo non di brividi di influenza, di che parlavamo? è di mal di gola, ma supponiamo di probabilità di avere un evento trombotico nell'arco di dieci giorni, probabilità che il paziente sia una ragazza, probabilità che il paziente abbia avuto una somministrazione di un farmaco profilattico riguardo a una qualche malattia di origine virale. Allora, i numeri che ho messo qui sono totalmente inventati e non sono presi da alcuna statistica, per cui i numeri che adesso andremo a utilizzare per fare questo esempio sono del tutto privi di alcun significato statistico. Allora, perché faccio questo esempio? Innanzitutto, per fare un altro esempio e per meglio chiarire il concetto di probabilità condizionale che abbiamo appena visto. E poi anche per capire come dovremmo esprimerci quando parliamo di probabilità condizionale. Le comunicazioni che vanno date quando riferiamo dati che hanno una valenza statistica legate al concetto di probabilità condizionale. Mi spiego. Cerco di rifare l'esempio che abbiamo appena fatto cercando di illustrare il modo in cui poi si devono correttamente esprimere in italiano i risultati delle indagini statistiche che si vanno a fare. Supponiamo che io mi stia chiedendo quale sia la probabilità che un soggetto a caso su una popolazione di 100 milioni di individui, alla luce dei numeri che ho prelevato dalle statistiche e dalla conseguenza di istruzione di probabilità che deriva dal numero che ho prelevato dalle statistiche, per esempio sondaggi, no che dico sondaggi, risultati di indagini epidemiologiche e cose di questo genere. Alla luce di questi numeri, ripeto, della quarta colonna casi su 100 milioni totalmente inventati. Lo ripeto, non li ho presi da nessuna parte, sono buttati lì a caso. Se io mi vado a chiedere qual è la probabilità che un paziente abbia un evento trombotico e abbia avuto una somministrazione di un certo vaccino, bene, allora, dalla teoria delle probabilità semplicemente la probabilità sarà data dalla sommatoria dei mondi in cui entrambe questi eventi booleani siano risultati veri. E quindi possiamo avere lì un risultato, per esempio, tre su un miliardo, ad esempio. Tre soggetti su un miliardo, su questa casistica totalmente inventata, hanno avuto sia una trombosi che una somministrazione di un vaccino. Ma se ci andiamo a chiedere invece qual è la probabilità che questo soggetto abbia avuto la trombosi alla luce del fatto che abbia avuto una somministrazione vaccinale sarà data dalla probabilità che abbia avuto una trombosi e una somministrazione di vaccino diviso la probabilità che abbia avuto una somministrazione di vaccino. Quindi sarà il numero di prima diviso la probabilità che abbia avuto un vaccino, che non l'ho data, ma la ricalcoliamo al volo adesso, e sarebbe P di V sarebbe P di I1 più P di I2 più P di I5 più P di I6, che sarebbe 2 per 10 a meno 1. Se vado a fare la divisione mi restituisce 1,5 per 10 a meno 6. Quindi la probabilità che io possa avere un evento di trombosi se ho avuto un vaccino risulterebbe essere di 1,5 casi su un milione. Quindi di quelli che hanno avuto un vaccino, 1 su un milione ha avuto un evento di trombosi. E vabbè, sono numeri dati a caso, però adesso cerchiamo di approfondire un pochino l'esempio per vedere anche come è corretto esprimersi. Supponiamo che adesso io vado a chiedere quant'è la probabilità che io sia una ragazza e abbia avuto un vaccino. Di nuovo, il solito sistema viene fuori una probabilità su mille. Cioè una persona su mille che hanno avuto il vaccino era una ragazza. E già perché si partiva prima dagli anziani e poi si è scesi giù fino alle persone più giovani. Di questi più giovani solo la metà erano di sesso femminile. Vabbè, numeri totalmente inventati di nuovo, ma giusto per dare un minimo di parvenza. Alla fine ci possiamo anche chiedere qual è la probabilità che abbia avuto una trombosi ed era una ragazza ed aveva avuto un vaccino. Un qualche cosa di ancora più basso di 3 su un miliardo e 2,5 su un miliardo. Perché ovviamente più congiunti facciamo, più bassa poi sarà la probabilità. E ci siamo. Ma, ed ecco la conclusione di questo esempio, nonché conclusione di tutta questa unità didattica. Se ci andiamo a chiedere qual è la probabilità che un paziente, un individuo abbia avuto un episodio di trombosi condizionato al fatto che e era una ragazza e aveva un vaccino, sarà la probabilità che aveva avuto una trombosi ed era una ragazza ed era un vaccino diviso la probabilità che era una ragazza ed aveva avuto un vaccino. Che ho calcolato tutte e due sopra, se vado a fare il rapporto mi viene fuori che è 2,5 per 10 alla meno 5. Che significa questo? Significa che è una probabilità diversa dal fatto che io possa avere un episodio trombotico dopo aver avuto il vaccino se sono una ragazza. Semplicemente non è lo stesso. E ora, se io dico qual è la probabilità che possa avere una trombosi se ho avuto il vaccino, questa probabilità è 1,5 su un milione. Ok. E non dico niente riguardo alle ragazze. E allora è come se stessi dando un'informazione parziale e in molti casi, come questo presente di cui sto trattando, dare un'informazione parziale potrebbe significare da un'informazione anche un po' errata. Nel senso che se la statistica mi consente di esprimere un giudizio di probabilità, ovvero di credibilità, sul fatto che avendo una somministrazione di vaccino, io so anche qual è la statistica che riguarda le ragazze, ma non l'esplicito, non so se questa è una informazione perfettamente e completamente corretta. È chiaro che alla ragazza farebbe piacere sapere che è vero che la probabilità di avere un episodio trombotico se ha avuto una somministrazione di vaccino è 1 su un milione, però se per me diventa 1, per esempio, su 100.000, vuol dire che è 10 volte maggiore, io sarei contento di saperlo sinceramente, è vero che è sempre bassa, no? Per tornare un pochino agli esempi correnti, però se ho delle statistiche che mi consentono di essere più preciso per categorizzazione, cioè dare delle informazioni più precise per categoria, forse questo sarebbe il caso di esplicitarlo. Certo che questo aumenterebbe i tempi della comunicazione, aumenterebbe forse anche l'entropia della comunicazione, quindi la confusione, però anche un pochino sarebbe anche più corretto farlo, quindi io non voglio minimamente accusare niente e nessuno, volevo solamente dire, noi siamo ingegneri, che noi dobbiamo cercare di essere più possibili e precisi quando diamo informazioni riguardo alle statistiche. Se abbiamo informazioni che ci consentono di meglio categorizzare il livello di rischio per categorie, allora non dovremo secondo me tacere queste informazioni. Qui si chiude questa unità, si chiude sul concetto di probabilità condizionale. Si chiude avendo cercato di spiegare per quale motivo utilizziamo la probabilità al posto della credibilità e abbiamo cercato anche di giustificare dal punto di vista filosofico la teoria delle probabilità e quindi anche l'utilizzo di questi sistemi per andare a calcolare la credibilità dell'informazione di questi sistemi, di questo impianto formale e matematico, logico-matematico. Dunque, ci fermiamo qui, la prossima unità didattica sarà dedicata al teorema di Bayes e riprenderemo quindi il concetto di probabilità condizionale e faremo anche qui un esempio abbastanza significativo tratto dalle tematiche che ci stanno un pochino interessanti tutti quanti negli anni in cui stiamo facendo queste lezioni.